Grazie a tutti. 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 Non è che per caso ci può fare un esempio di un movimento provato sul serio? Well, I don't have my lightsaber. I don't have my lightsaber. Ha detto che non ha lasciato luminoso. Va bene, immaginiamo anche il movimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Immaginiamo che questo è stato veramente difficile girare nei set con effetti speciali. Sì, è stata davvero una sfida perché devo anche gestire il costume che era abbastanza immaginale. Una curiosità, lei prima di essere chiamata per questo ruolo non ceva comunque la serie di Star Wars o era in qualche modo fan? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Hai una domanda? Sì, una domanda da parte anche dei nostri ragazzi che tanti sono curiosi di questo. Il personaggio di Luminar sta trovando molto spazio nella nuova serie animata Star Wars e Star Wars. E ci chiedevamo cosa ne pensa lei della caratterizzazione del suo personaggio, che lei ha interpretato nella nuova serie. E se vuole fare anche un pochino strano vedere se stessa replicata in 3D sullo schermo, dove vedero vari episodi. Ah, sì, era molto strano. Non ho aspettato, ma è una cosa positiva per il personaggio. e ho visto un pochino più di una personalità. Ora vediamo chi è lei e il suo carattere, come quale tipo di personalità ha. E mi sono felice per questo perché mi sono sorpreso, anche se non... Sì. Sì, certamente è stato molto strano vedere il mio carattere doppio, il mio personaggio nel senso. Però bisogna dire che ha fatto bene il carattere del personaggio stesso perché la Archive di Fanna in questo modo ha avuto modo di conoscere... ... ...